Siamo qua con Borriello che sta prendendo una saggia o pessima decisione di fare il suo primo canale Kaimi! Olè guardiamo Bobby quanto è contento di questa cosa tantissimo che sorriso Tanto io scio! Sorriso! Eh che bel sorriso! E andiamo! Dai Bobby! Sriscia! Rotola! Rotola! Bravo! Vale duro! Vale! Oh papi! Siamo arrivati! Ehi! 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 Ehi!